personaggio preferito di topolino io allora non so perché cioè io paperino per me paperino era il top e beh certo giusto perché qualcuno ancora più estremo che ne so dice no gastone che è vincente no pure paperino cioè troppo vincente paperino è giusto mix cioè non è che ha le sue sfortune però alla fine la gente gli vuole bene comunque un affettuoso c'è nipotini cioè mi piace paperino se anche paperone dei paperoni un po me lo copri l'hai mai letta la saga di paperone dei paperoni quella di don rosa su tutta la storia di paperone no no chiedevo allora no paperone quindi non ti no non mi c'è non c'ho l'antipatia che dovrebbe suscitare il personaggio perché alla fine risulta un po vittima di se stesso su un lungo periodo diciamo c'è un po arido semina poco di conseguenza riceve poco forse anche di più di quanto non meriterebbe però proprio topolino proprio non mi è mai piaciuto sempre legato la parata del 2 giugno no topolino no topolino io proprio prendevo e saltavo solo quando era l'unico fumetto dopo cinque ore al parrucchiere con mia madre mi hanno letto tutto due volte a quel punto vabbè ma se no era subito paperino e dintorni topolino quando era con pippo pippo uomo del popolo no pippo infatti pippo spaccava cioè riequilibrava un po l'antipatia di topolino anche risulta antipatico era respingente topolino topolino è noto amico delle guardie no ma poi dai è vero letteralmente amico delle guardie cioè spia nel quando sbaglia ma è proprio così quasi molesto arrogante vince sempre no arrogante perché poi peggio il finto umile invece almeno quello arrogante proprio diciamo beh dichiaratamente arrogante no capito no è vero siamo siamo d'accordo apro una parentesi su tutto una cosa che ho rivisto di recente che praticamente nel famoso momento di don rosa se tu bevi una cosa che se non lo conosci che c'è praticamente c'è tutta la la genealogia no la dinastia dei papi e comunque solo paperino è nipote di paperone e paperina pure no paperino paperino il figlio della sorella paperino no paperina paperino è il figlio della sorella però tipo castone non è parente no si è parente alla lontà no è il cucino di paperino castone si però da parte del lato cut come si chiama lato nonna papera lato nonna papera capito che sono i parenti acquisiti è nipote di nonna papera ma non di paperone e questo io penso invece che era nipote invece no 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 poi sai una cosa che proprio io sempre quelle cose tipo inventate posticce no cioè tipo paperino supereroe paperinic sì io su queste cose sono proprio reazionario ah sì io sono d'accordo come nella cucina cioè noi mi puoi fare la carbonara modificare cioè no sono dei principi base della vita che non me li puoi cambiare perché mi sento male mi levi le basi le colonne cioè paperina bassa chi li fa paperinic tutte le cose modificate sempre per chiamare io io c'ho un'altra io c'ho un'altra per me è un altro no voglio dire un'altra cosa che sembra come la sua ma sicuramente non lo è cioè ma perché in una serie netflix recente la regina d'inghilterra è afroamericana sì perché non lo capisco questo non lo so non l'ho vista oppure quelle cose dove c'è la film su la prima guerra mondiale colonna sonora pezzo trap ma perché non si può sentire cioè sbagliato secondo me come se mettessi agli antichi romani rolex cioè non è possibile no certo ma io su questo invece ci sto cioè mi va bene dal romano con rolex è strano su alcune cose reazioni su altre poi ma poi su paperinic scusate ti spiego perché a me paperinic mi piace come come entità però cioè paperino parla in quel modo là se sicuramente una maschera lo riconosci che è paperino cioè ma sai quanti parlano così a paperino sono lui perché tutti parlano normale cioè lui che ha un difetto di pronuncia e parla come una paperina è chiaro che lui cioè chi sarà mai questo ma che vuol dire ma invece che parla così ma pure clark kent e superman se ti togli gli occhiali che faccio ma chi sei da krypton no sei stefano no clark kent e superman perché poi se tu vedi clark kent è tutto ingobbito no cioè se metti gli occhiali io vorrei io lo dico io io se mi tolgo gli occhiali la gente non mi riconosce è vero pazzesco è vero è uguale clark kent al contrario a me c'è sì tipo invece paperini ma anche super pippo c'è anche il nome cioè super pippo manco c'ha la maschera però super pippo si discosta pochissimo da pippo c'è super pippo è solo pippo forte c'è stupido imbranato però c'è fa peggio di prima è stupendo ma perché tu che supereroe o che personaggio del fumetto saresti se potessi esserlo in una tavola domani mattina è goku certo chiaro però quelli giapponesi sono facili no no teniamoci su disney no paperino pure a me mi piace però paperinic è lui cioè posso dire una cosa su paperinic prima è nominato la marvel cioè sono storie diverse cioè l'uomo ragno da un certo punto in poi c'era l'uomo ragno la storia di un certo tipo poi c'era l'uomo ragno che arriva a carnage sullo stesso numero sono due storie diverse però è lo stesso personaggio che ha avventure diverse paperino che è paperino e basta e paperino e basta paperino e paperinic ma poi scusa paperino perde contro chip e chop contro due scogliattoli c'è sfigatissimo non può combattere contro gli alieni capito quella è pk che è ancora più ancora più bello un capolavoro no no è per carità è figo però cioè quello è il problema mio che non può essere sfigatissimo contro c'è una scopa che ti sbatte in faccia e poi salvi il mondo degli alieni no cioè è incoerente questo è il mio problema poi è bello sono diverse tempoline della stessa lo stesso multiverso se posso cercare di dare un senso ah tu dici che in un multiverso c'è un paperino e in un altro multiverso c'è sono tutti c'è c'è paperino che è paperino c'è paperino che è paperinic c'è paperino che è pk e sono questo boh non mi convince va bene è scienza vi sto parlando di scienza non lo so non lo so va bene sono anche paperinica tutti gli amici sono loro tutti super pippo cioè tutti si conoscono tutti supereroi cioè strano no come se io e te lui siamo supereroi cioè non loro che non conosciamo cioè capito strano no cioè no però no perché va bene fumetto dice non deve essere proprio un film neorealista che dove combacia tu non è che a un certo punto ci si può permettere di volare un po' con la fantasia cioè devi fare te un po' di lavoro va bene va bene so pure paperi pure quello è strano non so come fino a lì tutto bene fino a lì sì fino a lì capito e poi nel momento in cui diventa uno supereroi alto secondo me vale tutto vabbè ma abbiamo litigato mi dispiace no no sono contentissimo sono contentissimo di aver litigato non pensavo di alimentare questo clima così di tensione tranne Topolino che appunto finto umile però l'unico che non diventa supereroe e fa il suo lavoro ah tu dici che in realtà alla fine è il più umile il vero umile lui alla fine sì working class hero Topolino dice lui alla fine dice lui sì però no no tu no no tu io faccio come il figlio dei separati ha detto papà che però Topolino c'ha pure sta cosa alla Don Matteo che la polizia gli fa fare delle cose che non dovrebbe fare vai Topolino prendilo tu ammanettalo eh no non funziona mai che poi se è un eccellente cittadino ammanettato uno non lo puoi non funziona così la giustizia grazie Topolino no si fermi poi pure la Topolinia invece Paperopoli 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 straordinaria città bellissima Grazie a tutti